Avete visto cosa diavolo è successo ieri in Coppa del Rey? Uno spettacolo incredibile. Fuori il Madrid, fuori il Barça, abbiamo delle semifinali totalmente inedite perché sono passate l'Atletic Bilbao, la Real Sociedad, prima era passato il Mirandes, favola incredibile di questa edizione, squadra di seconda divisione che ha battuto anche il Villarreal ed è passato anche il Granada. Vuol dire che avremo quattro splendide espressioni del calcio di provincia a giocarsi un grande trofeo, avremo due squadre nuove nella Supercoppa 4 che si giocherà nella prossima stagione. Io lo trovo un grande trionfo, un grande trionfo del nuovo modo di fare calcio in Spagna, del nuovo formato di queste competizioni che dà la possibilità a queste realtà di qualità, realtà in cui si fa calcio con profondità e con visione di esprimersi e di farsi notare sulle vetrine più grandi, più importanti che ci siano in Europa. Tra l'altro sono state tutte partite ultra spettacolari. Vi voglio parlare di quanto è successo in questo turno clamoroso di Coppa del Rey, poi però lo approfondiremo maggiormente la settimana prossima con il tradizionale video sul calcio spagnolo, perché mi voglio legare a quanto è successo in questa Coppa, in particolare quanto è successo al Bernabeu, per raccontarvi una storia, una storia che vi sto raccontando in questi giorni anche attraverso i miei podcast che probabilmente conoscete, Cronache dei 90, podcast fatti per la piattaforma storielibere.fm. È uscita proprio ieri la nuova puntata, una puntata che ho dedicato a Zinedine Zidane. Vi lascio il link in descrizione per poter sentire questo podcast che faccio con Billy Costa Curta. È veramente un onore, oltre che un grande piacere poter parlare di calcio, poter approfondire queste figure, tratteggiarle a tutto tondo con uno come loro, con un grande campione, uno che è stato sui campi più importanti e che ha anche una capacità straordinaria di comunicare, di andare ancor più in profondità. Per cui in descrizione trovate il link per il mio ultimo podcast, la storia di Zinedine Zidane per Cronache dei 90. Però parliamo appunto di quanto è successo in questa Coppa del Rey. Come detto, il Granada è andato avanti, il Mirandese è andato avanti, ieri sera avevamo gli impegni per i due colossi che in qualche modo si preparano ad un testa-testa in campionato e tutto sembrava apparecchiato anche per un testa-testa in Coppa del Rey, invece no. Sono andate fuori entrambe. Il Barcellona ha perso a San Mamesi in uno scenario pazzesco, ha perso al novantatresimo con un gol segnato dai Gnacky Williams ed è stato veramente un delirio paradisiaco per la gente basca. È stata un'altra frenata che avrà delle ripercussioni per chi che si tiene soprattutto per il momento in cui è arrivata all'indomani dell'eruzione pubblica di uno scontro del quale vi ho già parlato più volte all'interno di questa stagione, lo scontro fra la squadra e la società, ma anche all'interno di un club che è estremamente fratturato e queste sono tutte cose che poi hanno dei riflessi concreti sui risultati perché quando non c'è unità di intenti, quando non c'è una guida solida, allora poi vincere le partite diventa ancora più difficile. Però va detto una cosa molto importante su questa partita, il Barcellona non ha demeritato. Ha fatto una buona gara, ha avuto anche la possibilità di vincerla, ci sono stati episodi arbitrali, alla fine l'ha vinta un coriaceo Atletic Bilbao che si è preso un passaggio di turno. Tra l'altro non è la prima volta negli ultimi anni che l'Atletic Bilbao, a livello di coppe nazionali o super coppe nazionali, crea dei dispiaceri ad un Barcellona favorito. Per cui è bello vedere un club di tradizione, un club di grande seguito come l'Atletic Bilbao, prendersi questo successo e andare avanti e sognare di tornare a vincere un trofeo importante. Lo shock precedentemente, un paio d'ore prima, era arrivato al Santiago Bernabeu, perché il Super Real Madrid di Zinedine Zidane, il Real Madrid di 21 risultati utili consecutivi, il Real Madrid vincitore della Supercoppa, il Real Madrid ritrovato, il Real Madrid inarrestabile, il Real Madrid reduce dalla vittoria anche nel derby con l'Atletico Madrid, ha perso in casa, ha perso in casa con la Real Sociedad, che diventa veramente una bestia nera degli ultimi tempi, perché anche nella stagione scorsa la Real Sociedad in una partita piena di polemiche roventi per i casi arbitrali è andata a vincere al Santiago Bernabeu, sembra un'altra vita per il Real Madrid, c'era ancora l'India Sito Solari in carica, era appena tornato Emmanuel Alguazil alla Real Sociedad, quello che garantisce la Real Sociedad è sempre una partita di alto livello, qualitativo, una partita di alto livello sul piano dello spettacolo, e lo è stata perché la Real Sociedad ha incendiato il Bernabeu, alla fine ha vinto 4-3 e Sergio Ramos al 98esimo ha avuto addirittura il pallone del 4-4, però l'imposizione dei baschi è stata piuttosto chiara, tra l'altro con un vero e proprio show regalato da Ode Gord, il ragazzino di proprietà del Real Madrid, che alla Real Sociedad quest'anno è diventato giocatore vero, a proposito di ragazzini diventati giocatori veri, ci sono state altre dimostrazioni roboanti da parte di Vinicius, una partita meravigliosa, una partita spettacolare come accade spesso in Spagna, una partita che ha nobilitato la competizione e le decisioni che sono state prese a riguardo a questo nuovo formato della Coppa del Rey, una partita che appunto, se parliamo della figura di Zinedine Zidane, ha portato ancora una volta l'effetto di una maledizione. Lo sapete qual è l'unico trofeo che Zinedine Zidane non ha mai vinto nel Real Madrid, tenendo presente sia la sua carriera da calciatore che quella straordinaria da allenatore, proprio la Coppa del Rey. Tra l'altro non ha neanche mai vinto la Coppa d'Italia nel campionato italiano, nel nostro calcio con la Juventus, non ha mai vinto la Coppa di Francia quando giocava in patria, quando giocava con la maglia del Bordeaux e del Cannes prima. Si vede proprio che questo trofeo non porta un feeling con Zinedine Zidane ed è una cosa estremamente particolare, una cosa che conoscendo la sua ambizione, un pochino sicuramente lo andrà a pungere. Perché Zinedine Zidane è uno che da quando è nato nella periferia di Marsiglia, in una situazione estremamente disagevole, figlio di genitori originari dell'Algeria, quindi in una zona estremamente difficile, in un contesto molto problematico, fatto più di violenze non all'interno della famiglia ma attorno a sé, piuttosto che di agi, fatto di tante difficoltà, Zinedine Zidane ha sempre avuto fisso il pensiero di primeggiare nel mondo del calcio, di essere il numero uno. E la sua storia appunto ho voluto raccontarla attraverso questo podcast, che è una forma di espressione che mi piace tantissimo, perché mi dà la possibilità di scrivere per raccontare, e di creare le immagini attraverso le parole. Che immagini ho creato raccontando la storia di Zidane? Poi spero vogliate andarla a sentire, per cui non voglio neanche anticiparvi più di tanto, però ho voluto creare l'immagine fatta dei contrasti, ovvero questa difficoltà dell'origine a Marsiglia, questa periferia puzzolente, questa periferia violenta, di una città che poi nel suo centro è una meravigliosa perla del Mediterraneo. Poi il passaggio dalla Castellane, la sua banlieue marsigliese, a Cannes, dove è iniziata la sua vita da giocatore, quindi sulla Croisette, con tutte le luci della costa azzurra, l'incontro con Veronique, il suo primo, unico e grande amore, la sposata giovane a Bordeaux, Veronique, che è il nome francese, che in italiano sarebbe Veronica, Veronique, che poi è anche il nome del dribbling tipico di Zinedine Zidane, Veronique, anche lei figlia di emigranti andalusi, figlia del deserto, scappata, hanno fatto una coppia molto forte, una coppia che è sempre stata il centro della vita di Zidane, anche in tutte le sue peregrinazioni, l'esperienza italiana, la Juventus, il confronto difficile, inizialmente pesante con Platini, un confronto poi assolutamente sostenuto, se non spazzato via, anche per i trionfi che ha avuto quella nazionale, in un'epoca estremamente significativa, perché quella Francia di cui Zinedine Zidane era il leader assoluto, era una Francia espressione multietnica di un paese estremamente eterogeneo, che non è mai stato così unito come in quell'estate del 1998, quando i Bleu vinsero il mondiale in casa. Poi la scelta di Zidane di andare a Madrid, di vestirsi di bianco, con questa maglia che ha un fascino irresistibile, la vittoria inseguita della Champions League dopo aver perso due finali consecutive con la Juventus, una vittoria sancita da un suo gol diventato un'icona assoluta, non solo di quel periodo, ma direi della storia del calcio, quel pallone che sembrava scendere dalle stelle ed è stato tramutato in una cometa dal suo sinistro, poi lo sviluppo della sua carriera al Madrid, l'epilogo con quell'incredibile ultima partita al Bernabeu, dove ha scambiato la maglia con un giocatore che rispettava enormemente, perché l'ultima maglia vestita da Zidane al Bernabeu non ce l'ha lui, ce l'ha un altro e gliel'ha voluta regalare, potete scoprire di chi si tratti ascoltando il podcast, fino all'epilogo vero della sua carriera da calciatore, nella notte di Berlino, una notte che tutti ricordiamo con gli occhi lucidi e nella quale lui invece è uscito con gli occhi bassi, dopo aver abbassato anche la testa di fronte alla Coppa del Mondo e di fronte a Marco Materazzi, tutte le cose che ha fatto nel frattempo, cose anche poco conosciute, cose che testimoniano il suo attaccamento profondo alle radici, perché anche nell'esperienza torinese Zidane spesso è andato in posti in cui non ve lo sareste mai immaginato, proprio perché in lui hanno sempre convissuto Zinedine, il calciatore, il francese, simbolo di una nazione, e Yazid, Yazid è il suo secondo nome, il nome con cui lo chiamavano gli amici d'infanzia, la Castellan, nome che indica la sua anima araba, l'anima che lo ha sempre accompagnato e che a volte è uscita in maniera incontenibile per quelle che sono state le controversie della sua carriera. E poi, proprio nel dialogo con Billy Costa Curta, ho voluto parlare della figura di Zidane Giacatore, ma anche della sua figura da allenatore, una figura che inizialmente era stata sottovalutata, non era stata capita, e che lui ha costruito e presentato mattone per mattone, diventando uno dei più grandi allenatori già della storia del calcio, e un allenatore che ha dato dimostrazione a tutto tondo sul piano tecnico, sul piano strategico, sul piano della gestione atletica, sul piano della gestione mediatica. Sono tantissime le cose da dire su Zinedine Zidane, infatti le ho raccolte in questo podcast, vi ricordo ancora, fatto per Storie Libere, trovate il link in descrizione. Poi torneremo a parlare di Coppa del Rey, di Liga, dopo il turno del weekend, un turno che avrà diversi ecchi, soprattutto per quanto è successo ieri sera in questi giorni. Ma ci rivediamo già nel corso della giornata, qui sul nostro canale, perché voglio parlarvi anche di Serie A, e voglio proporvi tutti i numeri per poter provare a prevedere, attraverso le statistiche, lo sviluppo di questo turno alle porte, di questo turno che inizia già stasera e che culminerà domenica sera nel derby di Milano. Appunto, domenica sera c'è il derby Inter Milan, e domenica mattina non posso che dedicare un video esclusivo a quello che sarà il derby, ai duelli, alle figure, alle chiavi di una partita, che lascerà un segno decisamente forte sul nostro campionato. Lo avete capito? Ci sentiamo spessissimo, e quindi ci sentiamo prestissimo qui sul nostro canale, a fra qualche ora.